cari amici di youtube ben ritornati sul mio canale rieccoci qua oggi siamo al 28 di agosto il nostro diserbo era stato fatto se vi ricordate il 16 di giugno abbiamo avuto diversi temporali ultimamente ormai non è rimasto più niente anche l'erba secca ormai è andata quasi a marcire oggi procederemo con la rieggiatura gratteremo un po il terreno e poi faremo la semina abbiamo una temperatura che è scesa la massima è sui 27 gradi se fosse salita oltre non avrei seminato ovviamente perché le micro terme dopo i 27 gradi già a 27 gradi iniziano a soffrire quindi diciamo che sarebbe anche un po azzardata con questa temperatura però siamo ottimisti e procediamo con con la semina sperando che non diluvi questo è il nostro seme abbiamo uno sport play sr di padana sementi e il miscuglio è di festuca rundinacea rizomatosa la rambler e poi abbiamo un 10 per cento di poa ovviamente queste sono le percentuali 90 10 miscuglio abbiamo 10 kg di seme vi consiglio sempre di acquistare sementi certificate e soprattutto sementi professionali questa è la linea top class la linea professionale di padana sementi adatta anche ai produttori di prato qua infatti azienda certificata qua seme puro al 99,6 per cento la media è del 99,5 per cento guardate la germinabilità che è importantissima è al 90 per cento se andate ad acquistare delle sementi così anche in supermercato non professionali noterete che questa percentuale sarà molto inferiore quasi anche al 60 50 per cento addirittura anche al 40 per cento di germinabilità qua abbiamo l'anno di produzione 2018 è stata l'analisi è stata fatta a maggio 2018 peso qua abbiamo una cosa molto importante la dose di semina 35 40 grammi per metro quadro poi ovviamente potete anche aumentarla questo è un consiglio io oggi la farò a 40 grammi a metro quadro farò una semina abbastanza abbondante e niente questo è il seme come potete vedere rosse trattato e micorrizzato quindi come sapete le micorrize ci aiuteranno anche a proteggere il seme ad aiutarlo alla germinazione eccoci qua ragazzi la semina è andata a buon fine speriamo bene abbiamo sabbiato con sabbia silicea adesso partiremo con le irrigazioni il tempo promette bene seguite ancora i prossimi video così seguiremo la germinazione del prato un saluto vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale per qualsiasi commento scrivete sempre qua sotto ciao al prossimo video